Il servizio Bambini al Centro nasce a seguito di un percorso di confronto e approfondimento che ha visto protagonisti il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana, l'Istituto degli Innocenti, l'Ordine degli Avvocati di Firenze e l'Organismo di Conciliazione di Firenze, OCF, in merito ai casi di separazione giudiziale tra coniugi che presentano profili di conflittualità tali da esporre a sofferenze i figli minorenni. Qual è l'obiettivo primario del servizio? È finalizzato a prevenire la sofferenza infantile generata da una separazione conflittuale e a recuperare nella coppia in crisi il compito genitoriale che rappresenta la miglior tutela della crescita equilibrata dei figli anche dopo la cessazione del rapporto coniugale. A chi si rivolge il progetto, il servizio è diretto a tutte le coppie di coniugi in fase di separazione giudiziale con figli minori. Il servizio è gratuito, è integralmente gratuito senza alcuna differenza di fascia economica. Come si accede al servizio? Dopo il deposito del ricorso per separazione il tribunale con il provvedimento con il quale fissa l'udienza davanti al giudice invita le parti a intraprendere il percorso di mediazione familiare. Come si svolge il servizio? La coppia interessata a intraprendere il percorso è invitata a prendere contatto attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico del tribunale di Firenze con gli operatori del servizio che provvederanno a calendarizzare il primo incontro informativo. Per accedere all'URP del tribunale passare dall'accesso a Piano 1 Viale Alessandro Guidoni 61 telefono 055 79 95 341 email urp.ca.firenze chiocciolagiustizia.it. Nell'ambito del primo incontro che solo per la durata dell'emergenza covid esiterà presso l'istituto degli innocenti e successivamente verrà spostato invece nei locali del tribunale viene data notizia le parti delle finalità del servizio e della sua gratuità della libertà di scelta di coniugi sia in relazione al percorso di mediazione che all'organismo che condurrà tale processo. L'istituto degli innocenti è situato in piazza Santissima Annunziata 12 barra 13 a Firenze. Quali percorsi alternativi al servizio bambini al centro? Le coppie senza figli o con figli maggiorenni ma anche le coppie con figli che lo desiderino potranno rivolgersi al servizio per la famiglia realizzato all'interno del tribunale dall'organismo di conciliazione di Firenze o CF nell'ambito del quale svolgono la propria attività mediatori familiari che potranno supportare coloro che stanno affrontando un percorso difficile di separazione e divorzio oppure ad altri servizi di mediazione familiare presenti sul territorio.